Anche da casa puoi scegliere il tuo futuro. Mi chiamo Marco Gatti e sono laureato del corso triennale di scienza del turismo. Per me l'insubria ha significato un costante e produttivo incontro con tutti i docenti del corso. Inoltre grazie ad esperienze studi all'estero e seminari con le personalità di spicco della cultura italiana mi ha permesso di approfondire tutte quelle conoscenze e competenze che ancora oggi mi sono utili nel mondo del lavoro.